Quando iniziamo un viaggio, non possiamo prevedere le cose che ci accadranno lungo la strada. Non sappiamo chi incontreremo e quali ostacoli dovremo affrontare. Sappiamo che verremo accolti, ma ancora non sappiamo in quali case lontane troveremo un porto sicuro. Tuttavia ci mettiamo in cammino fiduciosi, perché intuiamo che è negli incontri più inaspettati che troveremo la vera meta. Viaggiare è concedersi agli imprevisti, accettare di non avere il totale controllo delle cose, capire che questo nostro essere stranieri ovunque è un bene, perché quando non conosciamo il cammino, niente è dato per scontato. Viaggiare ci insegna questo, che per conoscere un luogo non dobbiamo mai credere di conoscerlo del tutto e che se crediamo di essere arrivati, è già tempo di ripartire. Grazie. 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 Grazie.